Basciata dalla sole l'edizione 2023 dell'Ultra Trail del Lago Maggiore che si è svolta domenica, si è potuto correre con il percorso completo finalmente con il passaggio in acquota tra il Monte Zeda ed il Monte Marone. Il miglior tempo nella Wild 81 km è stato del plurimedagliato atleta altoatesino Michael Dola del Team Sportway Megastore. Secondo assoluto mentre il vincitore ha tagliato il traguardo in 10 ore 11 minuti e 27 secondi è stato Dario Pasta in 12 ore 26 e 23. Terzo gradino del podio per Carlo Martinelli. In campo femminile il successo è stato di Alice Ciapponi 12esima assoluta che ha tagliato il traguardo con il tempo di 14 ore 38 minuti e 9 secondi. A poca distanza di 3 minuti Valentina Carusi terza classificata la svizzera Lea Degen. Pioggia di primate invece sulla breve 52 km con la vittoria di Saverio Ottolini con il tempo record di 5 ore 55 minuti e 54 secondi. Secondo posto per Gianluca Piton terzo Lorenzo Aymar. La gara femminile è stata vinta da Silvia Guenzani e anche lei con il miglior crono assoluto in 6 ore 52 minuti e 28 secondi seguita dalla spagnola Carlotta Corbella e dall'italiana Laura Parolini. Primato registrato anche sul percorso della Scenic 37 km dove Stefano Radaelli e Andrea Adriano Cordova Fedeli hanno tagliato insieme il traguardo in 3 ore 39 e 53 seguiti da Matteo Brudot in 3 ore 46 e 26. Podio femminile tutto italiano con Lia Maria Pozzi prima seguita da Claudia Bonassi e Irene Caravati. Partita alle 16 da Cannero Riviera la Sunset 20 km è stata vinta da Paolo Boneschi in un'ora 42 minuti e 22 secondi alle sue spalle. Alessandro Lopriore alto tesino terzo classificato Matteo Ferrari in campo femminile. Il gradino più alto del podio è stato conquistato dall'allanese Lynn Brand Pedersen che ha chiuso in un'ora 58 e 16 seguite dalle italiane Elisa Berretta e Lucia Cozzi. Grazie.